Hello guys, benvenuti in questo nuovo video, oggi continuiamo l'apertura dei nostri prodotti vintage e nello specifico andiamo ad aprire uno dei prodotti di una delle serie più amate o che almeno personalmente amo di più di Yu-Gi-Oh! ossia le collezioni leggendarie e come potete vedere nello specifico la collezione leggendaria Kaiba piccola premessa, io della collezione leggendaria in questione non so quasi nulla nel senso che so che all'interno si trova il delinquente duo che praticamente penso sia la money card dell'espansione credo e immagino sai com'è Seto Kaiba l'ennesima ristampa del drago bianco in qualche altra versione prima di continuare se ti piacciono questo tipo di video quindi aperture di prodotti vintage o anche decklist dedicate appunto al retroformat quindi Time Wizard come Tengu Plant, Edison, Hutt, Mia Bella iscriviti al canale costa pochissimo del tuo tempo ma supporterà tantissimo il mio lavoro e soprattutto questo tipo di apertura vorrei arrivare ai 3500 iscritti quindi il tuo aiuto è indispensabile perché quello che faccio è legare sempre anche con i miei iscritti tant'è che ho anche un server discord in cui interagisco direttamente con voi comunque tornando a parlare della collezione leggendaria in questione allora prodotto abbastanza vecchiotto quindi mi pare di aver letto marzo 8 marzo 2018 quindi sono già 5 anni e come leggiamo contiene 3 megapack della collezione leggendaria Kaiba quindi sono 2 in meno rispetto a quella della collezione leggendaria 5Ds che se dovesse interessarvi mi lascio il link qui sotto in descrizione o quantomeno in alto a destra e poi vabbè 30 carte foil, 4 carare segrete e se oltre carare per ogni pacchetto quindi io direi di cominciare con l'unboxing sempre con le nostre forbicine dell'IKEA e vamonos allora quindi aprendo la nostra collezione leggendaria devo alzare in piedi per forza sembrava una scorreggia abbiamo la plancia di gioco come letto dietro molto carina si dai molto carina noi ovviamente metteremo la faccia del nostro amico Kaiba uno dei personaggi più amati della serie ah c'è il pacchetto promo giustamente di cui non so nulla delle carte all'interno tant'è che questa idea dolce della vendetta non ne idea nemmeno di chi sia questa sia qualche carta nuova quindi ok abbiamo idea dolce della vendetta regale signoriti di ah penso siano quelle raffigurate appunto dietro effettivamente drago distruzione questa non la conosco stavo leggendo scusate cappio della distruzione ok quindi abbiamo le nostre 5 ultra rare del promo pack mentre poi abbiamo i 3 pacchetti quindi ovviamente il video verrà penso molto più breve di quello che pensassi per l'appunto quindi mettiamo questo da parte e cominciamo ad aprire i nostri pacchetti ovviamente diciamo il nostro augurio è quello di trovare il Delinquente 2 per certi versi essendo diciamo la carta più costichiosa dell'espansione quindi potete anche controllare il mio store qui sotto in descrizione nel card market dove c'ho varie carte appunto che che indo anche per recuperare un po' di soldi con queste per portare altri unboxing sul canale quindi abbiamo un Predatore Wars che è uno dei mostri forse più amati quando ero piccolino essendo un livello 4.000 e 9000 che all'epoca non erano poi così comuni Legendario Dragunità porterò presto la decklist sul canale formato Tenguplant ovviamente il Giudicatore uh il Drone and Lock questa è la carta che durante il 2013 essendo stata una short print rara da Star Strike Blast era tipo schizzata a 10-20 euro a copia nonostante fosse rara perché per l'appunto short print e Dragon Ruler regnava con Spearbook poi Maestro di Occhi Blu esilio degli spiriti uh Reliquario del Drago Secret questa l'ho già comprata pure a parte però vabbè almeno me le posso far rivendere qualcuna fanciulla con gli occhi blu ah nucleo d'assalto quindi questa è anche abbastanza vecchiotta e riduzione del costo che pure all'epoca veniva abbastanza non voglio dire giocata assolutamente no però era abbastanza diciamo comune vederla come carta magari non conosco bene il meta appunto dei primi anni del gioco poteva essere relativamente utile visto che per l'appunto i mostri più forti del gioco erano il Drago era il Drago Bianco Occhi Blu di base probabilmente allora quindi abbiamo clonazione cerco di non andare contro luce vv catapulta tigre mausoleo del bianco ho letto del branco inizialmente zh armato metallico carro armato metallico scusate infatti mi pareva assai riproduzione magica mamma mia serpentone giallone livello 4 il 1800 all'epoca pure forte questo immagino ora comincino le secret ok saggio con gli occhi blu bello il Drago 200 Occhi Blu mi pare di non averlo no uno ce l'ho effettivamente nell'album il pianto d'argento molto carina questa e ninna nanna dell'obbedienza questa pure mi pare di averla vista in passato con una delle carte forti non mi ricordo però mi pare per un periodo l'avevo vista ripeto io ho smesso di giocare per un periodo di yugi quindi non ricordo effettivamente bene alcune cose ho frequentato un po' più il Tengu Plant e l'Evison ormai anche un annetto pieno che ci sto presto quindi bene o male un pochettino lo conosco quindi saggio delle fusioni quindi se siete amanti di carte vintage questa sicuro vi può piacere cavalcatrice dei venti di tempesta un drago del tono ultra raro beh questo lo mettiamo da parte rimpicciolire ultra rara anche questa vorrei metterla da parte x testa cannone il supportino del cacchio union ob secret ah il baratto esiste secret e chi cacchio lo sapeva io me l'ho fermato a quello ultra raro ok buono a sapersi santuario del demone soffio esplosivo di distruzione vediamo l'ultima carta ok non l'abbiamo trovata al delinquentuo ma ah un dad un dad che è una delle mie carte anche preferite del del gioco allora come non mi ricordo se lo stavo dicendo prima ora metto tutte le secret in esposizione intanto queste sono un'eccezione vi metterò qui come dicevo prima ho preso varie collezioni leggendarie e le sto portando un po' in occasione di halloween quindi nel caso ragazzuoli pian piano quantomeno in quel periodo arriveranno vari unboxing io nel frattempo vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto e spero che supportiate appunto il mio lavoro dato che mi sto impegnando un casino sia dal punto di vista che diciamo un po' più competitivo quindi tornei roba varie anche se siete interessati scrivetevi sotto in descrizione oppure unite per il server discord sia per quanto riguarda un po' il lato più for fan mi verrebbe da dire con appunto le sbustate che mi piacciono sempre mi sono mancate da piccolino ne ho fatte varie però non avevo giustamente la disponibilità di ora cosa importante se vi interessano prodotti coreani potete acquistarli scontati tramite il mio codice sconto il mio referral link in maniera tale da ricevere uno sconto del 5% sull'acquisto e allo stesso tempo supportare economicamente il mio canale tramite appunto il vostro acquisto e niente grazie ancora arrivederci e al prossimo video see you next time